È evidente che mi è stata manifestata una grande preoccupazione per quello che sta accadendo ai due club, in particolare al calcio per ciò che concerne un riferimento storico come Maro Dell'Anno. A me il compito di provare a salvare comunque sia il calcio che il basket per quanto sia possibile. Da domani verificherò anche l'opportunità di occuparmi come istituzione in prima persona della vicenda. Proverò a chiedere se sia possibile che magari il primo cittadino verifichi offerte concrete per acquisire il calcio e anche il basket. È evidente che quanto accaduto stamane abbia potuto compromettere anche le procedure. Sarà mia cura contattare Petrucci affinché si verifichi se tutto è andato per il verso giusto o in caso di qualche difficoltà rappresentare che oggettivamente c'è stata una condizione che avrà impedito alla società di adempiere l'iscrizione in maniera corretta e quindi verificare anche la possibilità di una sorta di deroga. Guardi, credo che per ciò che concerne il calcio, poiché sono convinto che ci possano essere compratori solidi e seri che hanno volontà di acquisire l'avellino se ci saranno le possibilità di cederla. La soluzione è dietro l'angolo. Per ciò che concerne il basket oggettivamente ci sono maggiori difficoltà. Prima bisogna verificare se l'iscrizione è stata effettuata perché nel calcio abbiamo comunque ad oggi la serie C nel basket non si comprende se abbiamo una serie alla quale siamo iscritti e conseguentemente poi si verificherà il da farsi. Proverò a verificare con gli organi competenti se sia possibile un intervento istituzionale da parte del primo cittadino ma solo per verificare disponibilità di imprenditoria seria perché credo che dove mai ci fosse questa condizione sarà interesse di tutti quello di provare a cedere sia il calcio che il basket. Nessuno neanche nei peggiori incubi che ha avuto avrebbe potuto pensare a ciò che sta accadendo ma al momento dobbiamo solo pensare a salvare la serie C nel calcio e il basket nella maggiore serie possibile. Poi ci sarà il tempo per esprimere giudizi, commentare, sentenziare. Oggi dobbiamo lavorare per far sì che questi due monumenti sportivi siano salvati. Da primo cittadino è possibile un incontro con le autorità giudiziarie considerando quello che potrebbe essere lo sviluppo di venerdì che potrebbe essere una tappa interlocutoria oppure potrebbe essere anche una tappa fondamentale anche per il futuro della sedicasse non solo. Per ora mi posso limitare a dire che non lo escludo sicuramente nei prossimi giorni dovrò incontrare le massime autorità per il primo appuntamento come primo cittadino verificheremo se ci sono anche le condizioni per discutere di questa questione. Proviamo prima a verificare se si può evitare una scomparsa e un fallimento e quindi non voglio pensare ad altre ipotesi in questo momento ma mai poi dovessero esserci queste condizioni valuteremo anche questa opzione. Io sono fiducioso rispetto alla presenza di opportunità concrete dal punto di vista imprenditoriali e opportunità serie. È evidente che deve esserci anche la possibilità amministrativa e per questo verificherò sin da domani mattina questa possibilità. Qual è la sollecitazione che è arrivata da Mario Dell'Anno che è il più attivo in questa fase proprio per quanto riguarda le sorti del calcio in questa città? Salvare questo patrimonio, questo monumento come ama sempre dire Mario c'è bisogno di qualcuno che pensi al restauro alla manutenzione quotidiana ma il monumento è di proprietà di un'intera comunità.